Sono ore particolarmente frenetiche intense, siamo riuniti in cabina di regia e stiamo ancora lavorando, racconta Gianni Rezza all'inizio della conferenza stampa, partita quasi con un'ora di ritardo sulla situazione epidemiologica in Italia. Parole che spiegano il clima, tra riunioni incontri che per forza di cose devono tenere conto del bollettino odierno. 30.550 nuovi positivi, a fronte di 212.000 tamponi. Oscillazioni quotidiane, spiega il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, che non dobbiamo considerare nemmeno nel numero dei decessi. Oggi sono 352, uno in meno rispetto a 24 ore fa. Ieri i nuovi casi erano stati 28.244, 353 decessi con un minor numero di tamponi processati. C'è stato un aumento progressivo dei casi nelle ultime tre settimane, riconoscerezza e adesso il trend mostra una certa stabilizzazione, ma su livelli piuttosto elevati. Dovranno passare ancora giorni prima di vedere gli effetti dell'IPCM del 25 ottobre e delle ordinanze regionali sull'uso delle mascherine. Preoccupa il dato dei positivi rispetto al numero dei tamponi processati, che supra il 10%, un segnale con fermarezza non del tutto positivo. Anche il numero dei ricoveri è in aumento, ma non c'è una vera e propria criticità, perché sono aumentati i numeri dei posti in terapia intensiva, dove oggi ci sono 67 ricoverati in più e oltre 1000 negli altri reparti. Ridurre il sovraccarico ospedaliero è una cosa molto importante, quindi dare una buona assistenza a domiciliare è importante. È importante diminuire la velocità di circolazione del virus per far sì che non ci sia sovraccarico. Grazie a tutti.